Eder. Mech. Pallister. Sarebbe stato motivato dalle difficoltà legate allo stato depressivo della moglie, che, a suo dire, rifiutava di seguire le cure mediche prescritte. Sul luogo del delitto sono intervenuti i medici del 118 insieme ai carabinieri del nucleo investigativo, che stanno conducendo le indagini sotto la direzione del pubblico ministero Stefano Puppo. Le autorità stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica e le motivazioni che hanno portato a questo tragico evento. Mentre la comunità di Sestri Levante è scossa da questo dramma familiare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Eder. Mech. Pallister.